Sarà presentato il prossimo 27 luglio all'Expo di Milano il calendario del campionato di calcio di Serie A 2015-2016. Invece il sorteggio per stabilire gli accoppiamenti delle partite di Coppa Italia vi sarà a martedì 21 luglio nella sede della Lega a Milano. E restando in Serie A, il Napoli ha ufficializzato l'arrivo del portiere Gabriel in prestito dal Milan. L'estremo difensore brasiliano, 23 anni, è arrivato ieri nel ritiro di Dimaro che era assistito all'allenamento pomeridiano dei nuovi compagni di squadra. Il club ha ufficializzato anche i prestiti del difensore brasiliano Bruno Vini agli olandesi del 20 e di Luigi Sepe alla Fiorentina. Il portiere era tornato a Napoli dopo il prestito all'Empoli ma il club azzurro ha deciso di cederlo nuovamente. Sarebbe intanto fatta per Allan che a breve dovrebbe anche essere in ritiro a Dimaro per svolgere la preparazione agli ordini di mister Maurizio Sarri. L'attesa continua in casa paganese. Riuscite a presentare la fideossione necessaria per completare la domanda di iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro non è finita. In extremis è presentato anche il ricorso alla Covizoc. Ora la palla passa al Consiglio federale che si pronuncerà domani. Se il ricorso dovesse avere esito negativo la paganese potrebbe ricorrere al collegio di garanzia del CONI. Dopo l'accordo raggiunto in casa cavese con l'ingresso del nuovo patron Campitiello si lavora ora sul fronte mercato. La squadra sta prendendo forma. Manca solo l'ufficialità ma il prossimo allenatore dovrebbe essere il giovane salernitano Emilio Longo, allenatore in seconda di Gautiere a Livorno. In caso di mancato accordo resta viva la pista che porta a Vincenzo Criscuolo. Confermato il capitano Claudio De Rosa, il difensore centrale Francesco Franco, l'esterno offensivo Cicerelli e l'attaccante Riccardo Bongermino. E si continua a lavorare in casa città di Nocera in vista del debutto nel campionato di eccellenza. Intanto quello di oggi è il giorno di un primo raduno. Sono protagonisti giovani calciatori classe 1998-99, 2000-2001-2002 in vista della scelta di Under per la prima squadra relativamente 98 e all'allestimento delle squadre juniors, allievi regionali, mini allievi regionali, giovanissimi regionali e mini giovanissimi regionali.